Amici e amiche di Sportome, benvenuti dal Bacigalupo per la nuova giornata del campionato Under 17 regionale a sfidarsi Taormina e Tirrenium. Andiamo subito con la lettura delle formazioni, padroni di casa che si presentano con Russo, Santoro, D'Agostino, Lembo, Vancheri, Cucè, Rizzo, Sposito, Aloisi, Manciagli e Spanò. A disposizione di Mister Patti, Gualberti, Gennaro, Bertuccelli, Dardanelli, Calì, Quartuccio, Bagalà, Sortino e Zoccoli. Risponde la formazione ospite con Cuciniello, Lamonica, Accordino, Barbera, Sottile, Cottone, Magistro, Manuel Furnari, Fazio, Ceraulo e Sidoti. A disposizione di Mister Calisto, Rubino, Giuseppe Furnari, Prinzi, Mastrantonio, Spanò, Casella, Verso e Molica. Dirige l'incontro il signor Giuseppe Fiamingo della sezione di Messina. Fazio, in seguito da un avversario, si ferma, pallone profondo, libera molto bene il Taormina, poi recupera Ceraulo, controlla, va al tiro il numero 10. Senza problemi per Russo. Qui c'è un corner battuto corto dal Taormina. Pallone sul primo palo. Esce senza problemi in presa alta Cuciniello. Punizione per il Taormina dalla lunga distanza, sul punto di battuta Vancheri, fischia adesso Fiamingo, va a Vancheri col destro direttamente in porta, alto sopra la traversa. Porta palla Sposito, in profondità da Spanò, intercetta la difesa del Tirrenium, ma riparte ancora l'azione del Taormina. Lembo, pallone nella zona di Sposito, che allarga molto bene su Aloisi, controlla il 9, va direttamente in porta, poi Rizzo. Rizzo, aveva intuito il tentativo di Aloisi, ma non è riuscito ad indirizzare verso la porta difesa da Cuciniello. Lembo, pallone profondo per Spanò, che controlla, qui prova a vincere un duello, mantiene ancora il possesso Spanò, si gira col Mancino. Nessun problema ancora per Cuciniello, ancora in possesso il Taormina, che prova ad imbastire un contropiede. Pallone profondo nella zona di D'Agostino, che corre bene a sinistra, ha davanti un avversario, pallone in mezzo per Spanò! Tocca il Mancino, manda avanti il Taormina, è sempre l'asse d'Agostino Spanò. È 1-0 per la formazione di Patti, solita progressione del numero 3 a sinistra e solito inserimento del 17. Che rivediamo qui con il Mancino, ha ingannato Cuciniello, 1-0 per il Taormina. Ancora Taormina, nuovamente nella zona di Rizzo, che manda in porta Aloisi. La controlla molto bene il 9, sopra un avversario a 2 per 2 con Cuciniello, per il 2-0 del Taormina. Prima Spanò, adesso Aloisi, che esulta così. Abbraccia i compagni, qui rivediamo il suo piattone in area di rigore. Un bacino al palo per il raddoppio della formazione di Patti. Sposito, serve Rizzo, che controlla molto bene, sopra un avversario, scambio corto con Aloisi. Poi il pallone smistato nella zona di Santoro, che può superare un avversario. Ancora Santoro col destro, 3-0 Taormina. L'abbraccio fra i giocatori della formazione di Patti e l'esultanza del numero 2, che ha corretto ancora una volta il parziale. Rivediamo qui il suo destro potente in aria, 3-0 per il Taormina. Furnari, supera un avversario, poi va da Ceraulo, che corre a sinistra, inseguito da Santoro. Ancora Ceraulo, la sterzata, ha spazio per andare, prova direttamente la conclusione. Poi si impone in due tempi Russo. Lembo, in profondità da Spanò, anticipato da Aloisi, che allarga molto bene il gioco su Santoro. Controlla col destro, traversone in aria. Vediamo che c'è una deviazione di Lamonica. Ed è autogol, 4-0 per il Taormina. Rivediamo l'errore del numero 2, per il quarto gol, siglato dalla formazione di Patti. Si va quindi all'intervallo su questo parziale. Recupera un altro pallone il Taormina. Dardanelli, ancora un controllo orientato per Aloisi, che ha spazio per andare. Aloisi col destro, 5-0 per il Taormina. Doppietta del numero 9, che va a ringraziare. Rivediamo il suo destro preciso in aria, che va sul 5-0 per la formazione padrona di casa. Altro duello vinto dal Taormina. Recupera Spanò, ancora la progressione del capitano. Poi Zoccoli, pallone interessante per Gennaro, che carica col Mancino. Il 6-0 del Taormina. Qui c'è l'intesa con Manciagli. Gennaro che va a esultare anche con la panchina. Rivediamo il suo Mancino preciso, che è valso il sesto gol della formazione di Patti. Russo gioca corto su un compagno, prestato da parte di Ceraulo, che recupera la sfera. Ancora Ceraulo. Torna nella zona di Barbera, che allarga su Magistro. Si divora il gol del 6-1, il Tirrenium. Calcio di punizione per la Tirrenium. Sul punto di battuta Barbera, che va direttamente in profondità. Qui c'è il controllo. Poi la conclusione col Mancino. C'è una deviazione, senza problemi per Russo. Riceve Bertuccelli. Ha spazio per andare. Si accentra il 14. Ancora Bertuccelli a servire un compagno sulla sinistra. Triangolazione che fa un buon fine. Va Bertuccelli. 7-0 per il Taormina. Segna anche lui, subentrando dalla panchina. Rivediamo il suo sinistro. Per la settima rete, siglata dalla formazione di Patti. Qui insiste la Tirrenium. Pallone interessante nella zona di Magistro, che viene atterrato. E c'è calcio di rigore, secondo il signor Fiamingo. Pronto dagli 11 metri di verso. A davanti Russo. Va avverso col destro. Alto sopra la traversa. Occasione sprecata da parte della formazione di Calisto. Che va direttamente in area di rigore. Stacca prima di tutti Gennaro. Apertura interessante. A smarcare Magistro sulla sinistra. Corre Magistro. In seguito da un avversario. Va direttamente col Mancino in porta. La guarda soltanto Russo. Nessun problema per il Taormina. Altro scambio corto per il Taormina. Che qui perde un brutto possesso. Lo recupera Ceraulo. Al limite dell'aria. Tentativo sventato. Ancora da Russo. Ancora un'azione per il Taormina. Manciagli controlla. Va da Spanò. Che allarga su un compagno. Tentativo col destro ribattuto. Ancora un tentativo. A dire di no stavolta Rubino. Prosegue in questa zona di campo l'azione del Taormina. Che va al tiro. E poi c'è un altro autogol. Stavolta di Mastra Antonio. 8 a 0 per il Taormina. Rivediamo qui l'errore della difesa ospite. Per l'ottava rete della formazione padrona di casa. Punizione per la Tirrenium. Magistro va col tiro a giro. Respinge molto bene Russo. Poi Fiamingo dice che può bastare così. Taormina che batte 8 a 0 alla Tirrenium al bacica lupo.